I motivi musicali, vivaci e le danze folcloristiche della Moldavia hanno conquistato il pubblico del Teatro Comunale di Catanzaro. Per il secondo appuntamento della stagione Ama a Calabria, in scena una compagnia coreotica pluripremiata, il Moldovenasca National Folk Ballet. Un cast di alta qualità, protagonisti oltre ai danzatori virtuosi musicisti dell'orchestra, composta anche da strumenti popolari. Un susseguirsi di esibizioni cariche di tutte le sfumature della grande musica popolare moldava. Molto applaudita la Suite dei Carpazzi, una danza originale con i bastoncini. La rassegna riprenderà dopo Natale, il 28 dicembre, con un grande concerto gospel che avrà come protagonista il New Direction Tennessee State Gospel Choir. Erika Cunzolo per la C News 24